perfetto e siamo live oggi con questa nuova diretta il titolo di oggi è da sogno a realtà gli aspetti psicologici nella creazione della casa perfetta ok e sono in compagnia e ringrazio molto il dottore andrea picco ciao a tutti è un piacere per me essere qua ringrazio te nicola grazie mille per me è molto importante averti come ospite per quale motivo perché finalmente come come progettista e come organizzatore di parecchi webinar dove parliamo sempre degli aspetti e materiali cioè quanto costa che tipo di trasmittanza può avere una casa oggi parliamo invece della cosa più importante che serve per costruire la casa che è la persona che oggi mettiamo al centro le persone allora esatto oggi mettiamo al centro le persone e e non solo quegli aspetti finanziari ed economici ma andiamo appunto a vedere che cosa di solito può preoccupare anche una una persona che deve iniziare la costruzione di una casa di questo tipo allora il il primo il primo ostacolo che 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 vedo sempre e dai committenti che 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 hanno intenzione di costruire una nuova casa in paglia è la famosa la famosa favola dei tre porcellini ok purtroppo è una cosa che ce la portiamo avanti dall'infanzia infatti e ecco secondo te come 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 si dovrebbe e bypassare questo questo ostacolo o gli ostacoli che ci portiamo e da dalle favole dall'infanzia nel progetto che vogliamo portare avanti di una nuova costruzione ad esempio in questo caso di un edificio naturale bene bella domanda partiamo subito proprio dalle fondamenta che è una parola non nicola che immagino che a te il tuo studio il tuo staff vista molto a cuore partiamo dalle fondamenta intanto solo una nota così introduttiva anche per rendermi un po più affabile a chi ci ascolta ascolterà io mi sto collegando da vicenza e di professione sono uno psicologo mi occupo di gruppi di relazionalità e di benessere in team quindi di collaborazione e penso che quest'ultima tematica abbia molto a che fare con la dimensione del contratto non solo del contratto in sede di progettazione no con l'architetto con l'ufficio di progettazione o con le varie persone coinvolte poi nella costruzione di una casa ma di un contratto ancora più profondo cioè l'idea di ingaggiarsi tutti nella realizzazione di un sogno che non è un sogno comune ma il sogno del cliente del committente e anche della sua famiglia spesso non solo della sua famiglia ma anche di più famiglie perché la casa è un elemento che sta di ponte tra varie generazioni dopo mi spiegherò meglio rispetto a questo allora la favola dei tre porcellini no mi dicevi perché il il porcellino piccolo era quello più svampito quello più emotivo no e si costruisce la casa di paglia che è fondamentalmente la casa che viene abbattuta più velocemente con un soffio con un colpo di tosse del lupo ed è questa l'immagine metaforica che ci rimane appena sentiamo a casa di paglia emergono delle titubanze le sopracciglia si alzano no ma sarà resistente ma terrà la temperatura ma terrà i rumori ma sentirò degli odori chissà quante altre tu ne sai molto più di me no nicola cos'altro ti dicono rispetto alle critiche le prime critiche quelle proprio del pensiero comune allora le critiche principali sono ad esempio ma noi le case le abbiamo sempre fatte in mattoni perché le vuoi fare in legno e paglia ma noi qui in penura padana c'è l'umidità e la casa marcisce poi no ma la paglia prende fuoco insomma sono tutti luoghi comuni che sono comunque capibili anche perché chiaramente ci vuole del tempo anche per assorbirli infatti il committente che di solito poi costruisce la una casa di questo tipo è un committente che si informa molto esatto e qua secondo me sta già in gran parte la risposta no della domanda che che mi hai lanciato io penso che la prima cosa da fare sia quella di accettare le resistenze nel mondo psicologico si dice proprio questo cioè se vuoi raggiungere una persona devi andare lì dove la persona è una persona che ha delle titubanze deve essere raggiunta e compresa nelle sue titubanze le titubanze vanno in prima cosa accettate non giudicate in seconda cosa risposte punto su punto attraverso delle informazioni anche perché immagino i muri delle case che voi costruite non è che hanno come dire ci sarà una risposta per ognuna di questi aspetti no per l'aspetto ignifugo per l'aspetto della temperatura ci saranno delle risposte concrete chimiche biologiche architettoniche quindi penso che la committenza vada accompagnata a una a un livello superiore a un livello di informazione superiore anche se immagino no dimmi tu anche nicola questa cosa che molte delle persone che si avvicinano a questo mondo che io io chiamo spero non erroneamente della bio edilizia che sia siano persone che hanno già una sensibilità un'inclinazione al mondo al rispetto no e quindi all'utilizzo all'interno del mondo della biodiversità anche di materiali nuovi persone di questo genere sono persone che hanno anche un mindset una una disposizione mentale più elastica invece il si è sempre fatto così appartiene di più e questo dobbiamo proprio registrarlo al senso comune alla tradizione al mantenimento delle cose così come si sono sempre fatte infatti posso confermare quello che appena detto perché appunto i committenti che abbiamo a che fare sono persone che hanno un'estrema sensibilità e soprattutto sono persone in cambiamento cosa cosa vuol dire cosa vuol dire cosa vuol dire io te la posso dire nell'atto pratico poi tu lo traduci dal punto di vista psicologico emotivo ok ad esempio che ne so e di solito comunque abbiamo sempre dei committenti che vengono da esperienze non sempre positive che vengono dalla difficoltà da difficoltà e ad esempio persone che con la propria famiglia abitavano in edifici non sempre salubri dove c'è presenza di muffa e dove i bambini sono si ammalano molto facilmente e questi diciamo sono i clienti che maggiormente si affidano poi il loro investimento poi abbiamo anche e committenti che vogliono cambiare per il discorso cambiamento climatico e perché ad esempio non so abitano in una padana l'estate il clima è insopportabile e decidono di trasferirsi però tutti questi trasferimenti che sembrano così facile a dire sono molto impegnativi perché sono proprio dei progetti di vita perché vuol dire spostarsi in altri luoghi coinvolgere la famiglia cioè dietro vedo veramente che nonostante possa essere semplice vedo vedo il piacere ma anche la fatica dietro ok certo che capisco bene quello che stai dicendo secondo me la parola cambiamento è la parola che più si aggancia a questo settore dell'edilizia che è in espansione ed è destinato ad espandersi sempre di più perché è un movimento sociale e per certi aspetti mi viene anche da dire socio politico perché oggi la politica la si fa anche e soprattutto attraverso delle scelte di mercato delle scelte di investimento di prodotti che vogliamo o consumare o usufruire o come in questo caso costruire addirittura che è un cambiamento inevitabile è già in atto e sempre più persone vogliono inserire nella propria vita questi movimenti di cambiamenti perché questi cambiamenti arrivano a tanti livelli nella qualità di vita delle proprie relazioni nella qualità del proprio della propria alimentazione nella qualità dei trasporti o di come gestiscono anche le relazioni all'interno del lavoro e dentro questo corollario mi viene da dire non solo c'è anche la casa ma a volte la casa forse ha un ruolo centrale perché la casa è un elemento fisico concreto che però dal punto di vista simbolico coinvolge tutti noi rispetto alla nostra identità la nostra identità singola individuale e sociale ma anche la nostra identità valoriale cioè traduce quasi mai in maniera perfetta però è diciamo in modo perfettibile in modo desiderabile traduce il desiderio di come noi vorremmo vivere e della qualità che vorremmo avere per noi e per i nostri familiari mi ha colpito prima no nicola quando dicevi spesso sono persone in cambiamento che traslocano che fanno un ragionamento sul dove vivono chi costruisce una casa oggi più ancora di una persona che semplicemente si trasferisce in una casa già costruita chi costruisce una casa spesso non è che si improvvisa da un mese all'altro in un progetto di questo genere ma è frutto di un lungo cambiamento che si incrocia e questo dal punto di vista psicologico mi piace proprio dirlo e raccontarlo ricordarlo si incrocia magari con eventi importanti della vita familiare non solo del singolo committente o della coppia di committenti può essere legata l'idea di un'unione di una famiglia o la o la ricreazione di una nuova famiglia magari qualcuno viene da da un divorzio e sta creando un nuovo nucleo familiare viene a volte magari da una malattia o da un lutto e qualcuno dice voglio cambiare vita viene da un cambio di lavoro da un cambio di stile lascia un'azienda una collaborazione e vuole fare un investimento valoriale su di sé sui propri cari sui propri familiari e anche sull'ambiente che lo circonda oggi io credo dimmi nicola se senti connessione ma credo proprio che il punto valoriale morale sia una quota non dico totalizzante ma importante nella scelta della di questo tipo di mercato no e di investimento sì assolutamente cioè tutti questi aspetti alla fine la sensibilità il il cambiamento sono aspetti comuni comunque che vedo che vedo spesso e poi questi aspetti e sisco si scontrano sempre con con il la mentalità comune che quella che quella magari dei genitori o ad esempio coppie giovani che vogliono realizzare una casa naturale papà è contrario perciò certo questi 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 due elementi con questo qui dello scontro e magari anche in questa transazione ci può essere anche un conflitto di interessi anche economici magari papà è anche co finanziatore del progetto sì a volte sì perciò vorrebbe che 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 l'investimento fosse 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 certo e poi duraturo ma per quello dai ci siamo noi e poi in qualche modo aiutiamo le persone a portarlo a termine e perciò il lavoro anche che 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 dobbiamo fare noi come come progettisti è quello di assicurarli molto cioè nel senso dobbiamo dare delle certezze cioè ad esempio se loro vanno dall'impresario del paese dicono no questa questa è una cosa che non sta su ok perciò ci deve ci deve essere poi anche da 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 parte nostra abbiamo essere dei psicologi a tutti gli effetti che va che vanno a capire identificare tutti gli aspetti che si va bene c'è l'obiettivo però c'è tutta poi una serie ad onde di emozioni ok e questa mi apre un altro scenario che è quello appunto delle ondate di emozioni che posso avere durante dalla prima fase del sogno alla alla realizzazione è proprio così sai ti ti aggiungo delle cose poi vedo che ne avresti da dire ancora no su questo punto perché poi oltre le le emozioni dei committenti coinvolge anche le emozioni dello studio no e dei progettisti che che devono essere delle sponde forti e informate che devono rispondere eh punto su punto ad ogni passo del del cantiere della della realizzazione ma forse ancora prima del cantiere ben prima perché il cantiere è è è forse una parte non dico centrale ma un centro avanti no del processo di realizzazione di una casa le ondate delle emozioni sono proprio legate anche alle fasce di bisogni fondamentali di noi esseri umani ok andiamo a scomodare l'antica l'antica piramide dei bisogni che ormai conosciamo quasi tutti eh o quantomeno le persone all'ascolto che hanno fatto un minimo di formazione anche a livello lavorativo la conosciamo la piramide dei bisogni di Maslow al secondo gradino subito dopo i bisogni dei della realizzazione dei bisogni fisiologici come esseri umani abbiamo il bisogno di sicurezza e costruire una casa eh soprattutto poi tentando come dicevamo prima no lottando anche ehm contro un un alcune resistenze del pensiero comune si va in una zona di rischio eh laddove invece il rischio in maniera conclamata per chi costruisce casa in paglia non c'è ma la sicurezza c'è ma c'è la persona ha la percezione di entrare in una zona in una zona rischiosa quindi la prima cosa è ottenere le informazioni e eh riuscire a vedere il planning proprio della della progettazione il più possibile dall'inizio alla fine in modo da sentirsi non solo rassicurati perché la parola rassicurato sembra lasciare lì delle ombre di imbonimento no come se uno debba essere rassicurato ma prima o poi la fregatura c'è no no qua si tratta invece di ottenere dati sicuri perché il progetto è sicuro i passi sono sicuri e le persone vengono accompagnate eh spesso no da quello che so anche del vostro lavoro Nicola molto di più che eh in altre forme di progettazione e vengono coinvolte anche su altri due bisogni degli esseri umani i bisogni di appartenenza perché chi a parte di un progetto di bioedilizia è una persona che fa parte anche di una comunità in transizione cioè si ha la sensazione di poter contribuire attivamente a migliorare il qualità la qualità dell'ecosistema e due eh i bisogni di auto di autorealizzazione spesso una famiglia che decide di entrare in una si costruisce una casa di questo genere sta costruendo un sogno di di grande realizzazione di qualità del sonno di qualità della concentrazione di qualità delle relazioni ehm quindi è chiaro che su queste basi passando attraverso questi questi bisogni diversi molto spesso le emozioni eh vanno fuori fase vanno fuori fase perché non tutto può essere tenuto sotto controllo dal punto di vista dei committenti eh ma dal punto di vista dello studio di progettazione sì però eh il committente ha bisogno di entrare piano piano in una logica diversa il problema immagino Nicola è che le emozioni poi eh creino delle come dire delle intermittenze no telefonate appunto quasi di rassicurazioni in ogni momento eh paura di aver sbagliato paura che il finanziamento non non sia sufficiente o che i preventivi non rispettino eh in qualche modo non vengano confermati alla fine dei lavori eh diamo un'occhiata anche un po' al panorama al panorama generale di questi ultimi anni tra le guerre a livello europeo e esterno europeo eh la variabilità dei tassi e dei costi eh delle anche delle materie prime che è variata e sta variando sensibilmente nell'ultimo quinquennio e decennio in base anche ai cambiamenti climatici in cui eh andiamo in cui stiamo andando incontro tutto questo panorama influisce su questo senso di insicurezza e di instabilità no da parte anche del committente per cui bisogno continuamente di essere rassicurato ma la rassicurazione può essere compensata da un contratto forte da la partecipazione all'interno del percorso di progettazione e ecco io qualche volta Nicola sto usando delle come dire uso dei termini che hanno a che fare magari col vostro studio perché cerco di mettermi anche un po' nei tuoi o nei nei vostri panni se dico delle cose che non non tornano però eh correggimi che siamo qua appunto per per imparare tutti qualcosa in più no ti 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 porto un esempio pratico su quello che appena detto noi avevamo cominciato e una casa una nuova casa il progetto appena prima della guerra in ucraina e poi abbiamo iniziato la costruzione che c'era la guerra c'era il covip c'era il superbonus c'era insomma l'innalzamento dei prezzi insomma abbiamo avuto questa serie di cause che non dipendono dal committente o che sono proprio fattori esterni e devo dire che questa committente è stata un'eroina perché da sola è riuscita da sola col nostro contributo chiaramente è riuscita a portare a termine quello che era il proprio sogno di costruirsi una casa tutta per lei è chiaro che come tutti i sogni hanno a che fare con la realtà e la realtà cos'è stata è stata quella di eh dover eh eliminare una stanza perché non non sempre eh cioè bisogna anche infatti secondo me questa è un aspetto molto molto importante eh che che bisogna avere come qualità come committente è quella della del sapere eh dell'essere flessibili certo sì stavo pensando la stessa cosa guarda ti ti aggiungo mi aggancio mi aggancio dentro questo discorso perché è un passaggio è un passaggio fondamentale eh se siamo in una logica prettamente commerciale eh una persona può offrirsi a uno studio come il vostro dicendo ma io con tutti questi soldi che ti pago che vi pago voglio esattamente la casa dei miei sogni no come il titolo di questo webinar no la casa perfetta voglio la casa perfetta ma in realtà le idee perfette sono molto pericolose perché eh esistono le idee perfette esistono per darci una direzione però la realtà è quella che comanda su questa nostra idealità questo rischio dal punto di vista psicologico c'è non solo nei confronti della casa e fortemente nei confronti della casa ma c'è nei confronti pensiamo per esempio ad una storia d'amore ad una relazione se noi volessimo l'altro esattamente come noi l'abbiamo immaginato e come lo vogliamo no i i vecchi ci dicevano ma cosa vuoi la fidanzata su misura il fidanzato su misura no vai dal falegname a fartelo e prendiamo un altro esempio i figli la relazione con i figli i figli sono un dono meraviglioso sono un progetto meraviglioso a volte si usa questa parola che è tanto valida quanto a volte anche un po un po mi dà un po di verifidi ecco un po come se eh un figlio debba essere eh una una sorta di progetto nella testa dei genitori non è così diciamo riteniamo valida questa parola solo nella direzione del fatto che si costruisce insieme dei passi di vita di un percorso ma poi ci fa ci saranno dei fattori di realtà che potranno portare la formazione l'educazione del figlio e anche la collaborazione genitori un'altra direzione la costruzione di una casa uno diceva dai che paragoni mi stai facendo dottor picco cosa c'entra cosa c'entra con tutto questo la casa è un prodotto se ho misurato eh la parete al centimetro al millimetro se l'architetto ha lavorato bene l'ingegnere ha lavorato bene il saramentista ha lavorato bene non devono esserci dei dei cambiamenti eh cari miei la realtà è che se non sbaglio Nicola uno delle prime dei primi lavori che si fanno in un progetto è per esempio anche lo studio geologico no lo studio del terreno si possono trovare delle sorprese si possono trovare delle sorprese rispetto a a l'aspetto idrico che ci può essere in quel terreno che prima non si vedeva non si conosceva eh rispetto a delle tubature rispetto qua mi fermo potresti aggiungere tu la la lista lascio i puntini puntini e poi non non c'è solo quello ci sono anche tutti quei cambiamenti di cui tu eh giustamente prima parlavi Nicola e ci sono anche tutta una serie di figure professionali che sono poi ingaggiate e inserite in questo progetto che possono che possono portare dei cambiamenti insomma anche il committente secondo me ha bisogno di creare una relazione di forte fiducia col proprio studio di progettazione o con l'architetto che li accompagnerà in questa avventura una fiducia che non deve essere fideistica fai tu e poi alla fine mi dici guai guai questa cosa perché a rischio di tante di molte delusioni ma non può essere nemmeno un voler entrare nella stanza dei bottoni e voler controllare tutto avere tutto sotto controllo perché tanto a meno che il committente non sia un altro architetto e non te lo auguro Nicola di trovarti ecco ma a meno che non sia un tuo un collega ehm molte cose non le saprà e rischierà di far perdere anche molto tempo per farsi dare delle informazioni che avranno più una natura di gestione dell'ansia più che di reale informazione bisogna aver fiducia nei passi certo sta anche in voi no progettisti riuscire fin da subito a mostrare bene la piantina di questo del percorso della vostra della vostra metro no cioè dove arriverà la metro e quali saranno le fermate intermedie che ne pensi di questa immagine è un'immagine molto bella dove appunto esemplifica un po quello che hai detto e se devo pensare come a a volte cioè devo pensarla come progettista e posso dire che fare una casa c'è una fatta come chiaramente la facciamo noi insomma in legno così è una cosa molto complessa perché e perché ci sono molte cose complesse e al suo interno però chiaramente dobbiamo sempre farle percepire come cose come cose semplici ok e questo me ne rendo conto quando perché eh ma qua essere mentista qui c'è un errore questo non va bene ci può sempre essere la critica però da parte di quelli che non conoscono però da parte di quelli che sono informati magari come tu adesso con un vedendo già la pianta il progetto infatti quando mostro il progetto strutturale delle persone che sono 13 tavole di disegno per fare un'abitazione dicono ah non pensavo che fosse così complessa non pensavo che ci volesse sì perché a volte il committente non si rende conto ma anche ma anche giustamente cioè non è non è il suo ruolo del del lavoro che c'è dietro e anche di pensiero che c'è dietro di responsabilità di stress ok ad esempio fare pensare a quanti aspetti ci sono da pensare in un progetto saranno 300 400 aspetti da pensare certo e dimmi dimmi nicola ma dico ed è difficile che non ci sia imprevisto l'importante come l'imprevisto è che vada a cadere in quelle parti meno significative ok ad esempio se come tutti prima detto l'imprevisto mi va a cadere su una cosa che fare con la relazione geologica cioè le fondazioni quello è un grosso problema ma se un imprevisto è invece su che ne so sul il colore del della tinteggiatura del bagno quella è un'altra cosa certo è anche molto più facilmente rimediabile sì la questione qua entriamo in aspetti più squisitamente psicologici è che spesso i dettagli che non rispondono al sogno del progetto iniziale del committente arrivano in una fase in cui il cantiere è non solo ben oltre ben avviato ma siamo già quasi nella fase finale quindi potrebbero essere passati molti mesi o anche più di un anno perché insomma da quelle da quelle poche informazioni che ho un buon cantiere può durare intorno all'anno è così nicola esatto sicuramente è un anno dura sicuramente un anno dura quindi facilmente anche anche sfora o può essere previsto che sfori allora cosa succede un anno in un anno succedono tante cose in un anno può nascere un bambino in un anno possono possono cambiare molte situazioni dal punto di vista finanziario nelle famiglie di origine possono arrivare delle situazioni di instabilità e in quest'anno il cantiere della tua casa della casa che hai tanto sognato investito per il quale hai chiesto dei finanziamenti va avanti e rispetto a questo il cantiere ogni tanto sei lì presente sei una persona molto controllante le è presente tutti i giorni e spesso e volentieri in ogni minuto in ogni minuto è lì in questo anno avvengono delle montagne russe emotive che hanno molto a che fare proprio con la dimensione con la rigidità mentale di cui parlavamo prima voglio parlarvi anche di un fenomeno che si chiama dissonanza cognitiva post decisionale questo è proprio un termine tecnico degli psicologi della psicologi sociali il signor festinger è colui che ha coniato questo termine e che cosa che fare a che fare proprio con la psicologia delle scelte cioè questo principio ci dice che nel momento in cui abbiamo uno stato di attivazione di agitazione di ansia di fronte a una scelta e a un certo punto definiamo una strategia di scelta anche se non ne siamo molto decisi a un certo punto ci irrigidiamo mentalmente su quella soluzione perché questo ci permette di toglierci da uno stato di ansia detto in soldoni diciamo ho deciso così e si fa così il problema è che questa dissonanza cognitiva post decisionale non ammette cambiamenti anche di fronte all'evidenza cioè salta fuori che certe cose devono essere cambiate ma anche per una miglioria anche per migliorare una efficienza energetica e capita che alcuni commettenti dicano no abbiamo deciso così si fa così si fa così allora come come si può ovviare a questo meccanismo in due modi bisogna assumersene la responsabilità sui due piani il piano individuale cioè la committenza deve sapere che se sta iniziando un cantiere non avrai nulla di certo è come iniziare un monopoli e nel monopoli il mazzo degli imprevisti è ben nutrito ed è sempre lì ogni 4 5 caselle ti salterà fuori la cartella imprevisti se tu non vuoi questo vatti a comprare una casa già fatta non iniziare scusami se faccio sono contro il tuo interesse vostro interesse Nicola ma devi sapere che iniziare a costruire una casa devi assumerti dei rischi e quindi devi avere una disposizione mentale molto elastica lasciare degli spazi vuoti degli spazi tra le righe affidarti a quello che ti dice il dottor preti e i suoi collaboratori e dello staff e incominciare un percorso anche di formazione guardare video leggere dei libri chiedere delle persone chiedere a persone che hanno fatto questo percorso prima di te è una cosa molto importante la seconda strategia è ribadiamo un po quello che abbiamo detto prima cioè l'architetto il progettista fin dall'inizio ti deve avvisare che che la l'imprevedibilità del percorso non totale chiaramente ma in una parte di imprevisti una percentuale fa parte del gioco fa parte del gioco del cantiere e quindi bisogna stabilire delle modalità con cui rispondere a questi imprevisti ad esempio se c'è qualcosa che non va me lo scriva via mail se c'è qualcosa che non le torna fisseremo un appuntamento in modo che si siano già definiti degli spazi per gestire inevitabili momenti di ripensamento di dubbi ma che questi non diventino invece un assillare la come dire lo studio di costruzione o andare a fare i padroni all'interno del cantiere perché in quel momento lì anche se tu sei formalmente il padrone ma non sei ancora il padrone cioè il cantiere è in mano allo staff no almeno io la vedo così sì sì infatti il committente più delle volte se lui è proprietario di tutto quanto il dell'otto del progetto però alla fine non vede mai da arrivare al dunque al dunque non arriva mai al dunque alla fine non si chiude mai questo cerchio non si chiude mai e utilizzare delle delle strategie ad esempio noi abbiamo diviso ad esempio è quello che facciamo in tre fasi fasi costruttive la prima fase che è quella principale e la più importante dal punto di vista della durata che sono le strutture cioè fondazioni pareti copertura e serramento cioè la parte solida quella che deve durare nel tempo e l'abbiamo divisa appunto in tre parti e stitico la seconda e la terza appunto per avere dei cicli più più corti certo rispetto ad avere un ciclo lungo ti farò la casa tra un anno la finisci non si sa cos'è la seconda fase è quella delle pareti interne dei massetti dei intonici e paramenti cioè le finiture la terza fase è quella dell'impiantistica impianto elettrico impianto idraulico impianto idrico scaldamento è quello che va perciò una un'idea da utilizzare come quella che tu devi incontri sarebbe quella anche idealmente di dividere dividere il cantiere la fatica in più fasi non è ben divisa per comunità tra ma potrebbe essere anche di più infatti nicola quello che tu stai dicendo che trovo anche molto molto operativo e anche illuminante dal mio punto di vista è quello che spesso anche io i miei colleghi insegniamo nei corsi di problem solving cioè di fronte alla risoluzione di un problema una delle strategie ce ne sono tante ma una delle strategie macro per affrontare il processo della risoluzione di un problema è dividerlo in sottoproblemi misurabili e affrontabili significa che può spaccare il problema perché come tu prima dicevi no dal tuo punto di vista e dal punto di vista del vostro studio voi vedete 300 processi che si devono avviare per la costruzione di una casa chiaramente non puoi condividere con la committenza tutti questi 300 processi anzi è proprio la responsabilità vostra semplificare e cercare di renderli comunicabili e digeribili passo a passo e molti di questi manco glieli devi dire perché altrimenti aggiungeresti benzina sul fuoco di una persona che già cerca di tenere controllato però è un modo per accompagnare cognitivamente le persone a dire siamo in questo punto tu sei qui come la pallina lampeggiante del GPS sul nostro Google Maps o sul nostro Waze siamo qui, guarda la mappa in generale arriveremo a questo obiettivo, a questo incrocio tra poco e poi affronteremo altri pezzi mi viene da dare anche un altro consiglio sempre dal punto di vista della committenza se sei un committente che sta pensando ossessivamente al cantiere della tua casa in costruzione 12 ore al giorno diurne e spesso te la porti anche di notte nei sogni cosa che per certi aspetti è anche normale ma se stai pensando ossessivamente al tuo cantiere c'è qualcosa che non va, prendila come un segnale d'allarme è chiaro che il finanziamento che hai attivato le scelte che hai preso e che ogni tanto magari riparlandone con il marito con la moglie, con la suocera con il papà, con i figli ti viene da ripensare delle cose ma se ci stai pensando in maniera ossessiva ti consiglio, prenditi dei momenti di vacanza da questo pensiero il cantiere va avanti anche senza di te e se hai dei dubbi affrontali trasformali in una domanda, in una richiesta di informazioni oppure in un'opzione da valutare scrivi al dottor Preti e ti guarda abbiamo deciso questa cosa ma pensavo per quel muro se potesse esserci, se siamo ancora in tempo potesse esserci questa alternativa potrebbe, non so in che fase sarete adesso non vorrei dire una cosa che poi Nicola mi uccide mi dice no perché hai detto questa cosa in diretta però se è valutabile io penso che sia molto meglio che non trovarti in una condizione di grande stress noi psicologi diciamo che sono tre le maggiori fonti di stress nella vita il matrimonio il lutto e i traslochi associato al trasloco mi sembra che il cantiere è il trasloco alla seconda alla potenza cioè perché tu c'hai anche tutta la costruzione della progettazione e poi ci sarà il trasloco e la nuova vita l'ambientarsi e quant'altro sì infatti quando finiamo un cantiere di solito il committente ha qualche cappello bianco in più di solito e non perché è durato tanto il cantiere giusto? no no tutto il procedimento dopo però tutto torna nella normalità esatto assolutamente no invece i consigli che hai dato sono estremamente importanti ed estremamente anche applicabili perché facilmente uno quando è troppo stressato durante l'iter costruttivo cosittuale si ferma prende la pausa prende una pausa per respirare penso che questo sia veramente un grande consiglio perché solo solo in questo modo uno può effettivamente realizzare trovare nuove energie capire capire cosa cosa deve fare questo è veramente assolutamente Nicola sì anche perché stare troppo concentrati su un compito fa perdere anche proprio le dimensioni è un po' come nella nostra vista no? quando quando siamo troppo concentrati su dei dettagli perdiamo la visione di insieme oltre al prendere una distanza per staccare riprendere l'energia dal punto di vista dal punto di vista fisiologico un'altra cosa che mi viene da associare a questo consiglio che è quasi la naturale conseguenza è ricordati che la scelta perfetta non esiste esiste una scelta collocata nel tempo se decidi di utilizzare un certo tipo di sistema di raffreddamento di riscaldamento se decidi di utilizzare un certo tipo di travatura non travatura non so se nelle case che fate voi Nicola ci sono anche delle travature ma immagino perché non è che fai solo come dire progetti monolitici no? ma si 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 la casa in paglia il progetto monolitico per la casa in paglia è un bello simoro comunque va bene no voglio dire il progetto perfetto non esiste non significa che se tu vai a spendere per una casa 500 mila euro il come dire la proporzione economica o un milione la proporzione economica significa che quello sarà il progetto perfetto perché non dipende dalla casa ma dipende da noi da noi esseri umani questo è un fattore psicologico molto importante noi siamo esseri in trasformazione quando iniziamo un nuovo progetto di una nuova casa vi ricordate all'inizio vi dicevo che la nostra casa è l'immagine forse più potente che utilizziamo per rappresentare esternamente la nostra pelle la nostra pelle esterna il nostro io la nostra identità individuale e sociale pensate che in psicologia banalmente uno dei primi test che si fanno anche nel mondo dell'infanzia ma anche per gli adulti per rappresentare la propria personalità è il test della casa disegna la tua casa e il test dell'albero disegna l'albero disegna come se fossi come se fossi un albero no? e quindi sono due immagini potenti per rappresentare la nostra personalità e la personalità non è mica fatta di mattoni non è fatta neanche di bagliasse per questo la personalità assomiglia a un elemento come l'acqua come il fuoco a un elemento naturale vivo vivo cambia per cui mi dispiace dirtelo dirtelo cara committente o caro committente ma sarai già cambiata dall'inizio del progetto della tua casa a quando ci andrai a vivere dentro saranno cambiati i tuoi figli le tue figlie saranno cambiate delle necessità e quindi dai il benvenuto a una certa quota di imperfezione e di e di cambiamento non tutto deve rispondere alle tue aspettative mentali c'è certo una buona quota sì altrimenti direi non è che siamo dei pazzi che ci lanciamo in progetti anche rischiosi che non ci corrispondono il cuore del progetto ti deve corrispondere per il resto lasciati un po' modellare anche dalla realtà esterna magari qualcuno che mi sta ascoltando mi sta dicendo voi psicologi ci fregate sempre alla fine ce la mettete giù che sembra una cosa facile ma non è facile lo so bene che non è una cosa facile però ho la sensazione che si viva un po' un po' meglio con questa con queste maglie larghe nei confronti della realtà piuttosto che tirare le maglie troppo strette ed avere un'aspettativa di una realtà che ci corrisponde al cento per cento anche perché questo ve lo dico ve lo posso garantire non come psicologo ma ce lo può garantire anche Nicola i vostri amici chiunque conosciate la realtà fa quello che vuole a un certo punto non ti corrisponderà mai al cento per cento vi auguro che vi corrisponda al novantotto al novantacinque al novanta va anche bene dopo dopo questo consiglio penso che possiamo chiudere una scarsa veramente una 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 perla di saggezza possiamo dirlo grazie Nicola ma io ho una curiosità però se il tempo se il tempo ce lo concede io ti do una cosa perché all'inizio tu dicevi c'è la fase pre la fase durante e secondo me abbiamo detto qualcosa sì di questo che di quello non abbiamo detto niente della fase dopo cioè quando poi il committente della famiglia entra nella casa e ci va a vivere no? esatto perché secondo me il vostro lavoro lì sarebbe finito ma poi non è finito vero? beh vero si spera che sia finito perché è finito no allora dal punto di vista di vizio che si spera che sia finito certo ok ma dal punto di vista psicologico esatto che uno ci dorme dentro e scopre ma come no ma questo odore ma questa ma questa inclinazione verso il sole ma questa non era questo è un fattore squisitamente psicologico sappiatelo perché il progettista non è Dio ma ha sotto controllo tutta una serie di variabili che sono le variabili scientifiche e tecniche dico bene anche perché tutte le volte comunque la non dico la forma però insomma il come fare l'edificio la pianta è molto dettato dal committente da da quello che ha nella sua testa dei desideri che ha perciò difficilmente ti dice vai pure e progetta la casa dei tuoi sogni non mi è mai successo di solito dobbiamo seguire quelle che sono le indicazioni dei committenti e realizzarle a norma è un po' questo certamente questa è anche una parte di psicologia della comunicazione che si incrocia con il tuo lavoro saper fare le domande giuste per poter aprire una visione e una comunicazione del desiderata del cliente il più dettagliata possibile certo assolutamente e comunque come hai detto tu aggiungo ancora che effettivamente una casa non è mai finita perché una casa poi quando ci vai a abitare la continua a modificare perché continua a modificare le tue percezioni infatti non so sposti l'arredo e nelle nostre case non cambi il colore perché diamo l'argilla a terra e quella è volendosi si può colorare però insomma è così bella che rimane sempre quello cioè uno lo fa a casa naturale appunto anche per quei materiali che si vanno a utilizzare però ad esempio quando tu vai dentro poi cominci effettivamente a prendere confidenza con la casa con gli spazi e anche lì è sempre un divenire perciò a quelli che vogliono una casa perfetta come il titolo che abbiamo dato la casa perfetta non esiste la casa perfetta può essere intesa come casa a propria immagine ok ma poi la perfezione come abbiamo detto durante questo questa questa oretta non esiste appunto perché cambiamo continuamente ok eh sì e quindi io mi immagino ecco volevo dire questa cosa che quando poi si va a vivere all'interno di questa casa che si è costruito che si è sognato che se ne è parlato no anche con i con i familiari credo che sia un momento davvero magico davvero magico e non dalle tinte e non dalle tinte uniche cioè che può avere dentro tanti luci e anche alcuni aspetti di ombre ma sono aspetti che hanno a che fare con la propria biografia con il proprio percorso di vita se una persona entra anche all'interno della casa nuova può succedere che abbia delle difficoltà a dormire per i primi tempi che abbia dei momenti di tensione emotiva all'inizio e credo che si tratti appunto di abitare lo spazio di farlo diventare proprio non si può pensare a una casa solo come un oggetto ma la casa è veramente un'estensione di quelle come dire di questi sistemi vivi che siamo noi esseri umani e quindi l'abitiamo e in qualche modo la facciamo anche un po' la facciamo anche un po' nostra la casa costruire casa oggi e soprattutto nella direzione delle case di paglia ancora di più io credo che sia non voglio essere giudicante forse all'inizio siamo magari parsi sia io che te Nicola verso far sembrare che chi inizia questo genere di percorso siano persone sensibili e coraggiose e le altre non lo sono sono tantissimo e sono tantissimi fattori per i quali delle persone non possono magari vorrebbero non possono o non vogliono iniziare questo genere di percorso e ognuno fa la propria strada ma chi lo fa sono proprio convinto che fa qualcosa di grande nel proprio percorso di vita cioè fa una scelta che è una scelta che si dice iatrogena cioè che lo cambierà lo cambierà in termini in termini di qualità in termini di rischio in termini proprio di stile di stile di vita ecco ok beh è un argomento che prende la mano questo no Nicola sì sì assolutamente allora allora vediamo io avevo una domanda che mi avevano scritto qualche qualche giorno fa merito al nostro webinar come prendere le decisioni giuste se hai mille variabili allora 6.000 variabili secondo te in che settore Nicola da come ti è arrivata la domanda cosa si riferiva a questa persona mille variabili interne o mille il comitente sì sì no il comitente se ad esempio se ha mille variabili nel senso ad esempio che ne so deve scegliere che ne so il serramento quale sceglie o quelle in pvc con il legno cioè proprio scelte materiali ok non scelte sì allora qua sì qua ci sono delle come dire abbiamo personalità molto diverse ci sono persone che di fronte alla scelta per esempio amano sbilanciarsi subito come per dire ok io preferisco il legno via e vanno avanti in maniera molto decisa perdendosi a volte magari la possibilità di esplorare alcune alternative altre persone che invece si bloccano di fronte alla varietà e vogliono sapere tutto di tutto e poi non vanno avanti allora alcune strategie per uscire da lì dipende ripeto se sei una persona più razionale o anche un po' più istintiva però di sicuro parlare con altre persone che hanno appena finito di costruire una casa o che l'hanno costruita qualche anno fa può aiutare due visitare altre case non dico cantieri ma visitare delle case e chiedere alle persone che vivono lì dentro ma come ti trovi con ma cosa ti ha fatto scegliere per questo pavimento piuttosto che per quest'altro quindi farsi aiutare dagli altri aiuta tantissimo aiuta tantissimo un altro esercizio questo è più immaginativo psicologico che potete fare è provare a proiettarvi nel futuro provare a immaginarvi di vivere già nella vostra casa e fare una specie di viaggio anche a occhi chiusi provate a immaginare dove vorreste che poggi nei vostri piedi sulla fresca ceramica su un facile laminato da pulire e da rompere o su un delicato e caldo legno dove vorreste se appoggiate la mano sui vostri serramenti dove come li vorreste ci sono persone che hanno una forte immaginazione e ce la fanno altre fanno più fatica e allora è meglio andare a ficcare il naso nei casi degli altri capite perché vi ho detto la cosa prima bellissimo consiglio questo qua da fresca e bene diciamo che dai siamo giunti alla fine della nostra della nostra ora ne è uscito una sorta di manuale di psicologia e casa dove abbiamo ha snocciolato insomma tutti quanti quelli che sono gli aspetti del viaggio del progettare costruire e poi abitare in una in una casa in una casa una casa perfetta che sia naturale una casa in senso universale e soprattutto grazie per gli utili consigli che hai dato durante questo percorso perché alcuni veramente sono molto preziosi grazie a te Nicola è stato bello chiacchierare su questo aspetto e mi rendo conto che inoltrandosi nella tematica vengono fuori tanti altri aspetti psicologici che non è facile trattare citandone uno su tutti lo lasciamo lì per esempio chi prende le decisioni nella committenza perché chi andrà a vivere in una casa è una famiglia ma spesso può succedere che all'architetto allo studio arrivino dei conflitti che hanno a che fare con i nuclei familiari della committenza e lì ci si può fare poco però è un aspetto come dire da tenere in considerazione che è quello prossima puntata Nicola va bene lì un altro conflitto che potremo vedere in una prossima ora allora un altro tema bene allora ringrazio il dottor Andrea Picco per i consigli e per aver trattato la tematica della psicologia sulla casa in modo molto esaustivo e io posso ringraziare te anche per il modo con cui stai facendo divulgazione e cultura e anche per il modo ecologico con cui so lavorate all'interno del vostro studio ecologico nel senso non ambientalistico ma nel senso di ecologia delle delle relazioni della della coprogettazione questa è un'altra cosa molto importante quindi i progetti nascono anche da un'ecologia umana e quindi grazie grazie per questo per questa collaborazione di oggi grazie mille allora di complimenti e lo gli allargerò poi anche tutto quanto il team va bene speriamo che ci abbiano sentito assolutamente allora grazie a tutti e ci vediamo nei prossimi webinar ciao 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 ciao